5, 4, 3, 2, 1 Sono Francesco Monti, il leader investigator di Paranormal Inquiries e vi porterò a caccia di fantasmi. Mi chiamo Francesco, voglio riuscire a contattarvi. Nel 2011 iniziò la mia avventura, dopo aver personalmente assistito ad un evento inspiegabile. Così, insieme ad un piccolo gruppo, legato dalla stessa passione, io, Gerardo ed il cameraman Lorenzo abbiamo intrapreso un viaggio per conoscere la verità sul mondo dell'occurso. Chi c'è qui con me? Mi vieni fuori! Cazzo, cazzo! L'avete sentito? Guarda la pianta, guarda la pianta. Dove? Merda! Cercheremo infatti in posti con un passato oscuro, o più semplicemente luoghi dove sono state segnalate attività inspiegabili. Avremo tutta la notte per indagare e per rilevare attività paranormali. Voglio sapere con chi sto parlando. Mi fatti vedere, bastardo. Di sotto diciamo che la vita si è spenta. Mi salgo! Viene venire! Da ex colonie abbandonate, ad abitazioni infestate, da paesi fantasma a bunker sotterranei, noi non si fermeremo. Siamo solo all'inizio. Documenteremo quello che accade nel mondo degli stupi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.